Come preannunciato ho lasciato il mio spazio dalla regia per raggiungere questo spazio Auto Florence. Vogliamo scoprire che cos'è Auto Florence via con il filmato. Siamo in Viale Gramsci 63 e precisamente all'Auto Florence. Vediamo delle immagini esterne dell'azienda che è proprio all'angolo fra Viale Gramsci e via Silvio Pellico. Telefono 055 23 44 555. Entriamo all'interno dell'officina dove si allestiscono e si consegnano le auto nuove ed usate. Al lavoro Mario e Stefano i tecnici di Auto Florence. Siamo ora all'ingresso dell'azienda ad accoglierci la signora Daniel e finalmente ci incontriamo con le persone che vi possono consigliare per i vostri acquisti auto. Cesare Brandini, Riccardo De Magistris, Giuliano Ciulli e dopo aver preso accordi per l'acquisto o l'accessione della vostra autovettura troverete in Silvia una persona gentile che vi metterà sicuramente a vostro agio per tutto quello che riguarda la parte amministrativa. Un saluto a tutti da Auto Florence in Viale Gramsci a Firenze. Bene abbiamo quindi conosciuto e scoperto che cos'è Auto Florence con me questa sera Cesare Brandini che abbiamo già visto nel filmato. Ciao Cesare e benvenuto a Guelfi e Ghibellini. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Cesare Brandini. Ecco senti Cesare nel filmato che abbiamo ora visto si parla di Auto Florence dicendo che ci si può rivolgere per un consiglio per gli acquisti delle vostre vetture no? Rivolgendosi alle amici che ci seguono da casa. Che cosa vuol dire questo? Sì un consiglio per i vostri acquisti auto significa che potete venire ad Auto Florence in Viale Gramsci 63 a consigliarvi con me, con Cesare Brandini, con il mio socio che è Riccardo De Magistris e con il signor Ciulli che ha una vastissima esperienza nel campo auto sia per l'accessione che per l'acquisto della vostra auto e tutti i problemi che avete sulle automobili. Ecco quindi sia per il nuovo che per l'usato proprio per comprare una vettura tu potrai dare tutti i consigli. Poi in questo periodo ci sono delle promozioni particolari? Ho pensato di fare una cosa gradita ai nostri ascoltatori di fare una promozione speciale sulla Fiat Duna e a questo proposito... Vediamo un filmato che Cesare Brandini ci ha portato, un filmato riguardante proprio la Fiat Duna. Bene abbiamo visto questo interessante filmato sulla Fiat Duna e a questo proposito abbiamo in mente un'iniziativa per i nostri ascoltatori. Sì 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 abbiamo convinto Cesare Brandini e Auto Florence a giocare con noi. Infatti ogni settimana metterà a disposizione proprio a riguardo della Fiat Duna dei buoni acquisto. Esattamente saranno 5, 10 o 15 a vostra disposizione. Buoni acquisto con uno sconto dai 2 ai 3 milioni secondo il modello di Duna che sceglierete soprattutto se riuscirete a conquistare uno di questi buoni. In che modo? È semplicissimo. Ho detto 5, 10 e 15. Sarà la mia mano fortunata che dovrà tirare a sorte una delle tre buste che Cesare Brandini ha portato con sé nelle quali appunto ci saranno rispettivamente 5, 10 e 15 buoni. Cesare vogliamo vedere queste buste? Io mi auguro naturalmente non me ne volere ma parteggio per i nostri amici che ci seguono a casa di estrarre, prendo questa busta, la numero 1 e vediamo quanti buoni sconto. Eh ho preso 10 buoni sconto per l'acquisto di Fiat Duna. Quindi saranno 10 amici fortunati che avranno l'opportunità di guadagnare uno di questi 10 buoni sconto. Sono buoni, ripeto, dai 2 ai 3 milioni. Niente male come protezione, Cesare mi stai guardando male, ho strappato i 10 buoni. No, facciamo questa trasmissione per avere interesse anche da parte dei nostri ascoltatori, quindi abbiamo piacere che verifichi questo. Bene. Tra l'altro in che modo? In che modo si possono conquistare questi 10 buoni? In che modo sono a vostra disposizione? Voi potete telefonare da questo momento per tutta la durata della trasmissione allo 055 35 60 69. Ripeto, 35 60 69. Tutti coloro che telefoneranno avranno in omaggio gratuitamente un controllo gratuito della propria vettura e tra tutti quelli che telefoneranno saranno estratto anche questi 10 buoni sconto Fiat Duna. Non è poco, non è poco. Autoflorence è lieta di offrirvi anche questo controllo gratuito della vostra vettura, magari proprio perché no, in previsione di queste prossime vacanze. Certo, ci si muove di più con l'auto, quindi fare un controllo accurato della vettura può essere sicuramente interessante. Poi tra l'altro in questo periodo, Cesare, lo vogliamo dire, abbiamo creato anche una nuova iniziativa. Abbiamo ideato la ragazza Autoflorence. Abbiamo pensato di dare la possibilità alle ragazze che seguono la casa Guelfi e Ghibellini di partecipare a un concorso, un concorso che sarà non soltanto di bellezza ma di simpatia e quindi daremo come premio alla prima classificata un ciclomotore, alla seconda e alla terza una bicicletta. Sono biciclette bellissime che saranno a vostra disposizione. Che cosa dovete fare? Iscrivetevi ragazzi, belle, bellissime o simpatiche, simpaticissime. Iscrivetevi, passate da Autoflorence. Si parlava di ragazzi, ragazzi, iscrivetevi, ragazzi. Ragazze, ragazze, per carità, non mi fraintendete, ragazze Autoflorence. Iscrivetevi, telefonando ad Autoflorence 055 23 44 555 oppure passando direttamente dal viale Gramsci. Sarà un'iniziativa, ci auguriamo, simpatica. Sì, direi poi oltretutto ogni settimana porteremo con noi nel nostro spazio Autoflorence alcune di queste ragazze, quindi penso che già questo possa essere una cosa interessante per le nostre ascoltatrici. Contribuirà sicuramente a ravvivare questo spazio Autoflorence una presenza ed una bellezza femminile. Bene, Cesare, io ti ringrazio per questo tuo intervento, ci vediamo la prossima settimana ancora per parlare di Autoflorence, ancora per strappare qualche buono sconto che sarà a disposizione dei nostri amici che ci seguono da casa. Volevi tra l'altro ricordare qualche altra cosa, Cesare? Un saluto a tutti gli ascoltatori che seguono questa trasmissione Guelfi e Ghibellini. Bene, che possono, perché no, venire da te, farsi riconoscere. Certo, sì, dicendo la parola d'ordine, Guelfi e Ghibellini sicuramente saranno trattati da noi con tutti i riguardi per rispetto a questa trasmissione. Bene, grazie Cesare Brandini sicuramente.